Bene, buongiorno, ben ritrovati. Allora, con la settimana di oggi, con oggi inizia la settimana, scusate, di introduzione alla programmazione strutturata e vedremo quindi i concetti fondamentali della programmazione strutturata che sono le istruzioni composte, cioè le istruzioni cicliche e le istruzioni sequenziali. Ma prima di entrare nel vivo di questo argomento, che è un argomento centrale a questo corso, dobbiamo tornare un attimo sulla chiusura della lezione della settimana scorsa, in cui abbiamo introdotto il concetto di visibilità degli identificatori. E cioè abbiamo detto che nel momento in cui si dichiara, si definisce una variabile, e lo stesso concetto, gli stessi concetti che introduciamo adesso per le variabili, varranno anche per gli identificatori, cioè i nomi delle funzioni, il nome di quella variabile è visibile solo all'interno del blocco in cui è definita, innanzitutto. Vi ricordo il concetto di blocco, il blocco è una sequenza di istruzioni compresa all'interno di una copia di parentesi graffe. E dicevo che la visibilità di una variabile parte dal momento in cui è definita, o dichiarata in effetti, fino alla parentesi graffe che chiude il blocco in cui è definita. Per cui se definiamo una variabile dentro il main, questo sarà locale al main, se la definiamo fuori dal main, che è il blocco più grande di tutti all'interno di un programma, allora si dirà che quella variabile è globale, perché non è visibile solo dentro quel main, ma sarà visibile anche da altri codici che saranno linkati insieme a quel main, quel programma principale. Dentro il main, come nell'esempio che c'è sulla slide che abbiamo discusso la settimana scorsa, potrebbero e possono essere definiti altri blocchi. Qui abbiamo dei blocchi anonimi, dentro il main, questo esempio l'abbiamo discusso giovedì scorso. Altri blocchi potrebbero essere, come vediamo proprio, iniziamo a vedere oggi, il corpo di istruzioni composte, come l'if, lo switch, il for, il while, il do while. Le regole di visibilità però fanno sì che se dentro un blocco, richiamo un concetto che abbiamo già visto, se dentro un sottoblocco, cioè un blocco dentro un altro blocco, è definita una variabile che ha lo stesso nome di una variabile esterna a quel blocco, la variabile esterna a quel blocco, che se non fosse così, sarebbe visibile dentro il sottoblocco, perché ripeto, questa x qui, ad esempio, è visibile in tutto il main, dove è stata definita, non fuori dal main, non potrebbe essere visibile da altri programmi che si collegassero con questo, ma dentro il main sì, ma non dentro questi sottoblocchi, perché il programmatore che ha programmato questo esempio ha definito dentro entrambi questi sottoblocchi un'altra variabile x con lo stesso nome, cioè x appunto, della variabile esterna ai sottoblocchi. Allora dentro i sottoblocchi la variabile esterna non è più visibile, perché è mascherata dall'omonima variabile definita dentro il sottoblocco. Questa è la regola di visibilità. Però adesso questo ci dà dei problemi. I problemi nascono anche addirittura appunto dal fatto che se io dentro il main definisco una variabile a, in questo esempio, che ha lo stesso nome di una variabile globale definita fuori dal main, la variabile globale dentro il main non sarà più visibile. Beh, se il programma lo facesse una sola persona questo forse è poco male perché avrebbe il controllo del nome delle variabili, farebbe meno tale che problemi non ce ne siano. Ma non è così nella maggior parte dei progetti di software. I progetti di software normalmente sono il risultato della collaborazione di centinaia di persone o che lavorano nello stesso momento forse centinaia allora no, di meno o che hanno lavorato nel corso degli anni delle generazioni letteralmente. In particolare sto giocando intorno al concetto che noi includiamo sempre i nostri programmi delle librerie. Queste librerie dentro avranno degli identificatori di variabili e di funzioni. saranno codici molto grandi molto, molto grandi che sappiamo noi di come hanno nominato le loro variabili o le loro funzioni questi altri colleghi programmatori. Non lo sappiamo. Noi sappiamo usare però non sappiamo come hanno nominato queste variabili. Se andiamo a leggere la documentazione della singola libreria magari qualche cosa possiamo capire. Però anche se noi sapessimo quello che c'è il problema è che noi non potremmo usare nomi all'interno dei nostri programmi che possono andare a confliggere con i nomi delle variabili e delle librerie usate nelle librerie e delle funzioni usate nelle librerie. Allora il C tutto sommato negli anni ha tollerato cioè ha gestito questa cosa in maniera estemporanea. negli anni 90 in particolare con il C++ si è messa una mano al concetto di spazio di nomi cioè quello che si è fatto ed è stata comunque una tecnica che è evoluta negli anni per cui adesso io vi sto riportando le cose come sono in questi ultimissimi due anni per cui alcuni esempi che trovate nelle vecchie slide che giravano ed erano compilati gli anni passati adesso non girano più ho dovuto cambiare le slide l'idea semplicemente è questa qui quando che si definisce un blocco a quel blocco gli si dà un nome mediante la parola riservata name space spazio di nomi cioè vale a dire quel blocco in qualche maniera definisce non solo alcune direttive di allocamento di variabili in memoria oppure negli esempi non l'ho riportato perché ancora non l'abbiamo fatto ma dentro questi blocchi possono essere anche definite delle funzioni però oltre a definire questo blocco gli si dà anche un nome un nome che vuole il programmatore a che cosa serve questa tecnica e questa tecnica serve a far sì che se dentro un programma che è esterno a quel blocco e quindi non potrebbe accedere alle variabili definite dentro quel blocco si volesse usarle quelle variabili allora si potrebbe si può mediante l'operatore di riferimento o di risoluzione dei nomi anche detto cioè due punti due punti risalire alla variabile definita nel blocco anche da fuori del blocco stesso per esempio qui prima del main ecco questa è la novità è questa che adesso da qualche anno non si possono più definire spazi di nomi dentro il main devono essere sempre globali gli spazi di nomi quindi vanno definiti prima del main in questo esempio abbiamo una variabile x definita in uno spazio di nomi esterno al main come adesso obbligatorio che quindi sostanzialmente ha una visibilità globale quindi potrebbe essere visibile questo spazio di nomi anche da altri programmi che saranno linkati con questo per dove è collocato poi dentro il main abbiamo una variabile locale al main x che ha un certo valore e l'esempio vuole illustrare il fatto che ci si può riferire mediante questa tecnica dello spazio di nomi ad entrambe le variabili sia la x che è definita nello spazio di nomi globale sia la x che invece è locale al main per riferirsi a quest'ultima non bisogna fare proprio niente basta nominarla perché perché la variabile innanzitutto perché la variabile locale al main oscura le variabili globali che abbiano lo stesso nome quindi basta nominarla e non c'è nessun problema di conflitto di nomi qui abbiamo anche un altro un altro fatto che la variabile x definire uno spazio di nomi ha una visibilità che sarebbe limitata al solo blocco in cui è definita come regola per le variabili ma avendo noi dato un nome a questo spazio di nomi a quel blocco cioè avendolo nominato gli abbiamo dato il nome in questo esempio il nome che voglio io mediante l'operatore di risoluzione dei nomi o di riferimento io posso richiamare quella variabile semplicemente scrivendo prima lo spazio di nomi in cui essa è definita cioè il blocco in cui essa è definita due punti due punti il nome della variabile il nome che ha dentro quel blocco questa è una tecnica importante che ci consente di poterci riferire a variabili definite fuori dal contesto in cui stiamo eseguendo una certa istruzione semplicemente richiamando il nome del blocco dello spazio di nome in cui quella variabile è stata definita facendolo seguire dall'operatore di risoluzione di nomi di riferimento e poi il nome della variabile è come se noi stessimo dando un nome quello lo sapevamo già fare la variabile è anche un cognome è come se questa variabile appartenesse a questa famiglia e questo fosse il cognome della variabile cognome due punti due punti nome questa è la tecnica dello spazio dei nomi e ricordo che adesso da qualche anno lo spazio dei nomi è sarebbe stato corretto farlo anche prima però poi adesso il compilatore non vi compila un main se mettete un namespace dentro il main allora se questo è chiaro vediamo alcune implicazioni e facciamo un paio di esempi innanzitutto una piccola notazione a margine questa tecnica dello spazio dei nomi e precisamente la possiamo utilizzare anche per i ferici da dentro al main a variabili globali che il main avesse mascherato perché avesse ridefinito variabili con lo stesso nome per esempio e qui abbiamo dentro al main un intero x che vale 66 quella variabile x maschera la x globale esterna al main che varrebbe 33 quindi se io la mando in stampa viene stampato il valore della variabile interna al main grazie a questa tecnica dello spazio dei nomi e all'operatore di riferimento che questa tecnica utilizza io posso riferirmi anche alla variabile globale non definita in uno spazio di nomi ma semplicemente una variabile globale external main anteponendo l'operatore di riferimento senza specificare il cognome però senza specificare il nome dello spazio del namespace al nome della variabile cioè io con questa tecnica posso anche andare a prendere la variabile globale eventualmente ridefinita cioè avendo definito un'altra variabile con lo stesso nome dentro il main cosa che senza questa tecnica sarebbe stata impossibile fare cioè la riga count 2.2.x che stamperebbe 33 cioè il valore della variabile esterna senza questa tecnica non sarebbe stata possibile implementarla più che oltre al globale non c'è niente il precedente che intende così con questa tecnica e quella globale ma tu dentro il main non puoi definire da qualche anno spazio di nomi puoi definire blocchi ma non dargli un nome dentro il main e un'altra piccola precisazione abbastanza marginale che però sarà importante poi sarà importante viene utilizzato effettivamente nelle librerie lo spazio di nomi può essere anche definito in parti diverse del codice qui per esempio abbiamo uno spazio di nomi geo che ci avrà a che fare con geometria quindi è stato scelto questo nome definisce una certa variabile anzi una costante pi greco dentro questo spazio di nome gli da un certo nome poi chiude il blocco e quindi chiude lo spazio dei nomi poi ci saranno altre cose poi altro codice e poi si riapre di nuovo lo spazio di nomi successivamente che si riapre e dovuto al fatto aia scusate qui c'è un errore la G deve essere ovviamente case sensitive il C per cui deve essere o tutte e due maiuscole o tutte e due minuscole si riapre il medesimo spazio di nomi che sia il medesimo lo si capisce dal fatto che ha lo stesso nome scusate questo errore che c'è nella slide lo si riapre e si aggiungono identificatori a quel medesimo spazio di nomi poi lo si richiude di nuovo si può fare cioè si può spezzare la definizione spazio di nomi si può dare a più blocchi lo stesso nome altro modo per dire lo stesso concetto a questo punto va tutto bene ma c'è la relativa scomodità di dover premettere ogni volta il cognome al nome della variabile qualora si fa riferimento ovviamente a una variabile definita un certo spazio di nomi per cercare di ridurre questo fastidio è stata introdotta la direttiva using che stiamo utilizzando da parecchio che sostanzialmente ci semplifica la vita cerchiamo cercando di fare un paio di esempi sì qui abbiamo un esempio di un codice che definisce due spazi dei nomi un primo e un secondo spero si veda nel primo spazio di nomi sono definiti due variabili x ed y e anche nel secondo sono definiti due variabili x ed y che hanno valori iniziali diversi e poi nel main si dichiara a un certo punto del codice mediante la direttiva using che si farà riferimento a un certo spazio di nomi in questo esempio stiamo dicendo che nel corso del codice dal momento in cui è incontrata questa direttiva fino alla parentesi graffa chiusa si farà riferimento si darà per scontato che le variabili possono essere riferite allo spazio dei nomi definito nella direttiva a questo punto se io mando in stampa x il codice non è ambiguo è chiaro che si sta riferendo alla x definita nel primo spazio di nomi perché l'ho appena detto che userò quello spazio di nomi e anche quando stampo la y sarà la stessa cosa attenzione se dentro questo main ci fosse stata definita una x dopo la using sarebbe stata presa la x del first non del main perché ho appunto dato per scontato che prima deve andare a vedere se c'è la possibilità di fare il matching col cognome che ho detto che userò se non c'è il matching col cognome allora cercala fra le variabili locali o una variabile globale oppure cercala dentro il codice del main se a un certo punto avendo definito la using avendo dichiarato questa using ho detto che userò le variabili della famiglia first io ho necessità di andare a prendere una variabile che si chiama allo stesso modo di un'altra famiglia e devo a questo punto specificare esplicitamente il cognome di questa variabile quindi se devo prendere a un certo punto questa variabile qui devo specificare che sto riferendo alla variabile x del namespace secondo e così con la y spero che l'esempio chiarisca il concetto domande? ne vediamo un altro di esempio e poi chiudiamo in questo esempio vedete che nel main sono stati definiti due sottoblocchi il primo e il secondo non sono stati nominati questi sottoblocchi perché non si può più fare però dentro questi qui anche dentro i sottoblocchi del main possiamo andare a riferirci alle variabili esterne molto esterne perché erano proprio dichiarati in un blocco globale fuori dal main che abbiamo definito però quel blocco come un namespace e quindi funziona lo stesso cioè io posso andare a prendere le variabili di un certo namespace se come adesso bisogna fare questo namespace è per forza messo nella sezione globale allora io da qualunque posizione del codice comunque profonda come innesto di sottoblocchi posso sempre andare a prendere quelle variabili molto esterne definendo prima il cognome di quella variabile ecco questa tecnica ha facilitato l'uso delle variabili all'interno delle librerie perché noi possiamo dopo aver linkato il codice andare a prendere anche delle variabili o delle funzioni dentro le librerie il count per esempio il cin sono due oggetti definiti nella libreria io stream ma se andate a vedere il codice sono definiti all'interno di un namespace che si chiama std std allora o chiamate cin mettendoci prima std due punti due punti cin e va benissimo dopo aver incluso la io stream ovviamente oppure se non volete farlo ogni volta scrivete using std e using namespace std punto e virgola e sarà sottinteso il cognome std due punti due punti domanda usiamo due spazi di nomi e abbiamo la stessa variabile dichiarata quando facciamo ad esempio il cout nome della variabile che variabile viene stampata allora la domanda è questa abbiamo due spazi di nomi diversi ovviamente con nomi diversi con la stessa variabile dentro cioè con lo stesso nome non la stessa variabile che ho usato lo stesso nome per due variabili chiaramente diverse la domanda è dentro il main come faccio a riferirmi allora si parte sempre si parte sempre bisogna vedere se l'hai definita dentro il main se l'hai definita dentro il main prima di questa istruzione prende quella prende quella del main se non l'hai definita dentro il main il compilatore si arrabbia perché dice che non l'hai definita né dichiarata dentro quel codice se tu usi una variabile che non hai né definito né dichiarato la dichiarazione sarebbe extern e nome extern int x sarebbe la dichiarazione che tu fai uso di una variabile esterna se non l'hai né definita né dichiarata il compilatore non te lo compila riproviamo a fare la domanda che non l'ho colta se ad esempio in questo blocco se in un blocco se in un blocco di codice io uso due direttive using che faccio uso di due spazi di nomi che contengono la medesima variabile questa qui è una bella domanda che dipende da come è implementato il compilatore allora sopra c'è uno using che vale dal momento in cui è definito fino a questa parentesi graffa qua giù in tutto il file quello viene mantenuto quindi questo count viene automaticamente preso dalla libreria di stream la domanda potrebbe essere questa cosa succede se io a un certo punto uso count come nome di una variabile dentro uno spazio di nome uno di quei due a questo punto c'è il conflitto e il compilatore non te lo passa sì perché non sa a quale oggetto riferirsi allora questa tecnica qui può sembrare un po' complessa forse se la vedete le prime volte ma in realtà serve per facilitare i lavori ai programmatori spero di essere riuscito in qualche maniera a comunicare l'idea altre domande perché se sono riuscito andiamo avanti non so se devo dire qualcos'altro altre domande vai ti sei giocato la possibilità di riferirti a una variabile locale infatti è consigliato non usare la using proprio per questo problema grazie molto della domanda grazie mille la domanda era questa la dico anche per registrarla cosa succede se io ho messo una ho usato una using in un certo namespace e a un certo punto dopo averla data questa direttiva che vi ricordo vale dal momento in cui è stata lanciata fino alla parentesi graffa del blocco chiusa del blocco in cui è stata lanciata in questa sezione del codice che ho appena menzionato non posso più riferirmi ad altre variabili che abbiano quel nome perché il compilatore tenderà sempre a metterci prima il cognome che ho detto che userò quindi quando che ci sono questi problemi sarebbe meglio non usare la using se vuoi la variabile dello spazio di nomi metti cognome due punti due punti e il nome della variabile se no non lo metti allora questa sarà la variabile locale quando noi mettiamo using std e perché diamo namespace std perché diamo per scontato che non inseriremo mai non ci verrà mai in mente di chiamare una variabile caut perché chiaramente fare questo significa proprio cioè uno che fa questo cioè non lo so come definirlo uno sciocco ecco la migliore definizione che mi viene in mente è un programmatore sciocco con tutti i nomi che può dare perché deve dare proprio caut insomma bene grazie per la domanda se ce ne sono altre bene allora se non ce ne sono altre cambiamo argomento cominciamo adesso cominciamo adesso a parlare di alcune alcuni concetti che sono tipici dei linguaggi ad alto livello e che hanno fatto hanno cambiato per sempre la storia della programmazione parliamo delle istruzioni composte le istruzioni cioè condizionali e le istruzioni cicliche l'altro elemento che avrà cambierà per sempre appunto il concetto della programmazione sarà la subrotele e il concetto di funzione che vedremo la prossima settimana le strutture di controllo di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando di istruzioni composte messe a disposizione dal C e dai linguaggi imperativi di alto livello e sono sostanzialmente di tre tipi il primo l'abbiamo già incontrato il concetto di istruzione sequenziale che cos'è un'istruzione sequenziale? è un blocco cioè la possibilità di poter far sì che una serie di istruzioni una sequenza di istruzioni che verranno eseguite ovviamente nell'ordine in cui sono scritte nel codice possono essere considerate come facenti da punto di vista funzionale come costituenti un'unica istruzione funzionalmente poi cerco di spiegare cosa intendo con questo avverbio funzionalmente questo primo concetto è il concetto di sequenza e gli altri due concetti nuovi che conosciamo già gli altri due concetti nuovi che introduciamo adesso sono il concetto di istruzione sequenziale e il concetto di istruzione ripetitiva o ciclica nel C e nel C++ abbiamo tre istruzioni sequenziali scusate tre istruzioni condizionali e tre istruzioni ripetitive le istruzioni condizionali sono l'if l'if then o meglio l'if then era così nel Pascal vedete che ancora ho delle reminescenze di quando ero proprio ragazzo l'if else e lo switch che nel Pascal si chiamava case questa volta non ho sbagliato le istruzioni invece ripetitive sono il while il do while e il for sono concetti che probabilmente avete già visto cominciamo dal primo avete visto forse nelle superiori cominciamo dal primo che abbiamo appena concluso di parlare del primo questo sarebbe stato un richiamo se non c'è il concetto di blocco importante quando si definisce un blocco di istruzioni come per esempio quello del main verificare le regole che abbiamo appena discusso di visibilità degli identificatori qui per esempio c'è un errore siete in grado di vederlo? qual è? perfetto la y non è stata definita nel momento in cui viene utilizzata e quindi questo il compilatore non lo passa cosa si può fare per ovviare a questo problema? cambiare l'ordine di esecuzione delle eh sì in realtà qui la l'istruzione int x uguale è al tempo stesso definizione di una variabile e assegnamento di un valore a quella variabile quindi è in parte una direttiva perché quelle che allocano le variabili sono direttive e in parte un'istruzione quella che gli dà un valore quella è un'istruzione allora queste due componenti del codice vanno invertite va bene questo blocco va bene questo blocco del main va bene o no lo passa il compilatore qualcuno mi ha dato la risposta quindi è chiaro cioè mi ha dato la spiegazione quindi è chiara la risposta chiaro per tutti è in rosso quindi non va bene il compilatore non lo passa perché perché non lo passa perché questa Y ha uno scope grazie io ho parlato sempre in italiano visibilità il termine inglese è scope scope lo scope della Y è un blocco quella in cui è definita la Y è visibile da queste istruzioni che è l'unica fino a questa parentesi graffa dopodiché non è più visibile per cui io non la posso usare all'interno di un'istruzione fuori dal blocco in cui è definita vi ricordo non l'ho detto però anche questo è importante che quando una variabile è definita dentro un blocco essa non viene allocata in memoria fino a quando quel blocco non entra in esecuzione la variabile definita fuori dal main è allocata nello spazio dati nel segmento dati e vabbè il main parte però sarebbe allocata anche se il main non partisse le variabili locali una funzione invece vengono allocate primo non nello spazio dei dati ma nello stack e vengono allocate nello stack solo se quella funzione parte ma di questo ne parleremo quando parleremo delle funzioni dopodiché quando quella funzione o quel blocco finisce cioè quando si incontra la parentesi graffa che chiude il blocco in cui quella variabile è definita quella variabile è rimossa dalla ram cioè il suo spazio ram viene messo a disposizione per un successivo utilizzo fra l'altro fate una prova se definite una variabile fuori dal main e non la inizializzate se definite una variabile fuori dal main senza inizializzarla vedete allora include io stream int x punto e virgola int main int x int y punto e virgola adesso se fate caut x e caut y per x no allora ridico perché anzi abbiamo una lavagna io stream fate int x poi int main comincia il blocco del main dentro il blocco del main definite una y poi mandate in stampa la x e mandate in stampa in stampa insomma su schermo la y compila? si che compila non c'è nessun problema solo che abbiamo due variabili x ed y una globale una locale al main che non sono state inizializzate quindi quando le va a stampare cosa stamperà il valore che valore stamperà allora io non ero stato preciso le settimane scorse perché non c'avevo eh? allora ve lo dico io cosa succede succede che per quanto riguarda la x stamperà è a zero perché? perché perché quando parte il il processo associato a questo codice gli viene assegnato un segmento della ram e quando viene definita la x globale quella parte del codice viene effettivamente settata a zero mentre invece quando parte la variabile viene andata si va a vedere il valore della variabile locale il quale è definita solo quando parte il main e viene allogata nello stack lì lo stack potrebbe essere stato utilizzato quella porzione dello stack da un altro processo all'interno del main e sarà stato per esempio attenzione che dentro il main ci vanno a finire anche le librerie io stream quando vengono linkate e quindi quella porzione dello stack probabilmente è già stata usata anzi sicuramente e quindi per la y che è una variabile locale vi darà un valore casuale per la x che è una variabile globale vi darà molto probabilmente zero perché le variabili sono allocate in posti diversi se è globale nel segmento dati se è locale è una funzione in particolare al main nel segmento stack qui per risolvere il problema dobbiamo togliere il blocco cioè dare alla y come scope l'intero main perché non c'aveva senso fare questa cosa che senso c'ha? non c'è alcun senso ovviamente si può fare il compilatore l'accetta però dopo accetta fino a qui ma dopo non accetta questo ovviamente va bene questo era un ultimo richiamo sul blocco vediamo invece adesso le cose serie parliamo tutto è serio parliamo dell'IF è la prima fondamentale istruzione condizionale che abbiamo nel C e nel C++ qui ho rappresentato il diagramma di flusso dell'IF l'IF si compone di due sottoespressioni una la prima che deve avere restituire un valore booleano vero o falso viene chiamata condizione o test dell'IF e va scritta fra parentesi tonde dopo la parola riservata IF se condizione sottinteso allora il den del Pascal nel C non c'è quindi è sottinteso subito dopo c'è una seconda espressione che non 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 ha non deve ritornare a un particolare valore e poi lì non ce l'ho messo ma ci si vorrebbe stare il punto e virgola per chiudere tutta l'istruzione dell'IF dopo cioè istruzione mettendo il punto e virgola dopo istruzione l'espressione istruzione diventa istruzione appunto scusate la ripetizione in pratica quello che accade è questo qui se la condizione viene verificata cioè risulta essere vera viene eseguita l'istruzione altrimenti l'istruzione non viene eseguita e si passa alla rega di codice successiva all'IF facciamo un esempio supponiamo di avere una variabile x di tipo intero è una variabile b booleana l'interpretazione più ovvia dell'IF è questa qui if b x uguale qualcosa questa è corretta perché b è una variabile booleana nella porzione di codice precedente all'IF sarà stata valorizzata cioè avrà avuto un valore vero falso e a un certo punto del codice ci andiamo a chiedere se sta variabile b ha preso true o ha preso false con questa istruzione se ha preso true x sarà valorizzata ad uno se invece b in quel momento aveva il valore false x rimarrà col valore che aveva prima e se io scrivo questo è corretto questo allora se se siete perplessi su questa implementazione dell'IF lo siete a ragione nel senso che la risposta che vi viene in mente è sicuramente corretta ma può essere non quella che hanno dato i programmatori che hanno implementato il C e in tal caso sarebbe scorretta voglio dire l'interpretazione logica è che questa è una porcata perché non c'è senso chiedersi se una variabile tipo intero è vera o falsa però in C si può fare tutto perché il C e il C++ pure sono linguaggi come ho detto più volte molto pragmatici che lasciano al programmatore la responsabilità di sapere quello che fa allora dal punto vista logico non c'è senso fare quella cosa dal punto vista pratico funziona il compilatore la passa esattamente come diceva lui e cioè interpreta quell'intero X come un booleano fa una conversione di tipo e come vi ricordate abbiamo detto che se la conversione di tipo la fa lui il C intendo dire il compilatore lui scriverà una porzione di codice macchina che andrà a vedere sostanzialmente se la X qual è il valore della X sulla RAM se quel valore fosse 0 allora verrebbe interpretato booleanamente come false qualunque altro valore viene interpretato booleanamente come true e quindi l'IF funziona però un linguaggio serio non dovrebbe consentire questo dovrebbe mettere come minimo un warning al programmatore e dice ma che cosa stai facendo io dentro il test dell'IF voglio un'espressione booleana allora se per chi magari è più desideroso di capire sempre il dietro le quinte ho riportato qui il codice assembly che corrisponde a questa istruzione guardate qui if i uguale 1 i diventa 0 cioè questa è un'istruzione di if che si chiede se per caso questo è corretto perché questa è un'espressione booleana e ci può stare dentro una parentesi come condizione dell'IF va a vedere se i ha un certo valore in questo caso 1 se avesse i il valore 1 in quel momento il valore di viene settato a 0 allora se voi compilate con scrivetelo gcc o g++ poi il nome del poi scrivete trattino meno s maiuscolo l'opzione meno s maiuscolo e poi il nome del file da compilare il compilatore vi compila tutto poi vi produce un file che ha lo stesso nome del vostro file codice sorgente con il suffisso .s e questo file è un file di testo andatelo a vedere contiene in assembly il vostro codice il vostro codice è tradotto in assembly e con un assembly che se non specificate trattino intel viene preso con con le convenzioni della tnt che sono simili a quella dell'intel ma girate di posto sorgente e destinazione nelle istruzioni se invece mettete trattino intel ve lo trasforma nell'assembly dell'intel allora io qui ho riportato il codice in assembly in assembly a tnt che risulta dalla compilazione di questo pezzetto di codice dentro il main e ve lo voglio sottoporre all'attenzione perché è un modo per capire esattamente cosa fa l'istruzione composta l'istruzione composta non è altro che un aiuto per il programmatore perché se non avrei potuto fare la stessa cosa anche in assembly ovviamente perché in assembly si può far tutto semplicemente è molto più complicato il C l'unica cosa che gli si può dire depositivo è che ti fa fare tutto quello che fai in assembly però in maniera un po' meno complicata ed eccola qui come si vede la differenza quanto è leggibile questa istruzione quanto poco leggibili sono queste però se le vogliamo leggere perché siamo curiosi se non lo facciamo adesso non lo facciamo oggi poi non lo faremo più serve solo per capire no? praticamente che cosa fa questa istruzione? ah beh qui mi è saltato lo spazio comunque sposta il contenuto della ram all'indirizzo i dentro eax quindi prende la variabile i e la porta sul registro del microprocessore il contenuto poi fa partire un'istruzione a livello macchina qui c'è uno spazio che va a vedere se eax ha come valore 1 questo dollaro qui vuol dire proprio il valore 1 in una sintassi anti-t che è un po' diversa da quella che abbiamo visto però il concetto è chiaro va a vedere se eax ha il valore 1 questo cmp sta per compare e poi c'è un'istruzione j sta per jump n per not e per equal jump if not equal se non sono uguali salta cosa significa? se il confronto di cui prima ha restituito falso ha restituito falso not equal quindi questa parte questa e fa saltare il flusso del codice all'istruzione che sta all'etichetta l2 all'etichetta l2 all'etichetta l2 che viene messa subito dopo il move che adesso ancora devo illustrare segue l'altro codice il codice dopo dell'if quindi in pratica se non sono uguali non viene seguita l'istruzione che c'è dopo che è questa qui e che cosa fa questa qui? mette 0 in i ecco l'if spero che l'esempio sia illustrativo forse no perché uno si chiede chissà cosa sarà l'if beh l'if viene implementato attenzione prego università europea organizza domani martedì 12 aprile alle ore 21 e 30 nel salone monifunzionale la manifestazione a Wayan Park vogliamo ricordare che l'impresso è gratuito così come il servizio alla metta a fine serata grazie allora è chiaro questo concetto abbiamo visto come viene tradotto in codice macchina l'if non in codice macchina ma in assembly però l'assembly è molto simile al codice macchina chiaro chiaro andiamo avanti allora se non avete domande ecco ah bella domanda che differenza c'è fra l'istruzione if magari facciamo prima l'if else che è quella proprio simile e poi vengo alla tua domanda perché la seconda istruzione condizionale che abbiamo a disposizione è l'if else è come l'if però l'if senza l'else se la condizione è falsa non fa niente si passa all'istruzione successiva l'if else se la condizione è falsa viene eseguita un'altra istruzione ma vi faccio notare che vengono eseguite o l'istruzione 1 quella in corrispondenza del fatto che sia vera la condizione o l'istruzione 2 quella in corrispondenza del fatto che la condizione è falsa ma dopo il flusso della computazione si ricongiunge cioè in entrambi i casi dopo l'istruzione 1 o dopo l'istruzione 2 viene eseguita l'istruzione successiva all'if voi direte è ovvio che sia così non è per niente ovvio non sarebbe ovvio se non stessimo dentro la programmazione strutturata ma di questo ne parleremo meglio dopo domani perché non facciamo in tempo oggi quando vedete istruzione 1 2 si intende che quella lì può essere a posto di istru 1 istru 2 ci può stare un blocco perché come ho detto prima dal punto di vista funzionale la coppia di parentesi graffe aperta e chiusa fa sì che una sequenza di istruzioni anche di 1000 2000 istruzioni vengano di fatto a essere considerate come un'unica istruzione quindi se c'è un'istruzione secca di assegnamento non c'è bisogno di mettere parentesi graffe ma se in corrispondenza del fatto che una certa condizione è vera voi volete fare 1000 istruzioni e allora dovete mettere una parentesi graffa all'inizio e una parentesi graffa chiusa alla fine queste due parentesi graffe faranno sì che funzionalmente il tutto è come se diventasse un'unica istruzione ecco perché io scrivo lì istruzioni 1 istruzioni 2 al singolare perché suppongo che se uno vuole fare più istruzioni lì le metta dentro una coppia di parentesi graffe che fa sì che più istruzioni è come se fossero una sola esempio abbiamo sempre x ed y e questo è un esempio ovvio se x è minore di 3 aumenta il valore di 1 altrimenti stampa il valore di x notate che prima dell'else ci va il punto e virgola perché se non ci fosse il punto e virgola l'espressione istr1 non sarebbe valutata come una istruzione è solo la presenza di quel punto e virgola dopo istr1 che fa sì che l'espressione istr1 diventi un'istruzione e venga eseguita quindi un errore che spesso si fa quando si ha le prime armi o quando si va di fretta è che si mette l'else senza aver chiuso il corpo dell'if con un punto e virgola questo è un altro esempio cosa c'è l'else che mi dà la possibilità di fare un'altra osservazione e vi chiedo se secondo voi questo pezzo di codice if cin estrattore x b diventa true punto e virgola else x più più il compilatore la passa o no senza fare la prova sui pc al solito qui bisogna cercare di ragionare o si va a leggere il manuale oppure cerchiamo di ragionare come possono aver ragionato i programmatori prima di noi al solito poi dovete un attimino pensare alla filosofia del ci e poi provare a tentare di rispondere secondo lui sì e secondo me pure e che cosa succede? allora chiaramente qui il punto delicato è la condizione perché abbiamo detto che la condizione deve essere dire un valore booleano vero o falso quando abbiamo parlato di questo operatore qui la settimana scorsa abbiamo detto che questo operatore è un operando un operatore che ha due operandi è un operatore che ha due operandi tutto quanto è un'espressione l'espressione stessa restituisce un valore e che vi ho detto che il valore normalmente restituito è cin cioè l'indirizzo dell'oggetto cin sulla ram normalmente perché quando il flusso di input da cui va a prelevare questo operatore che potrebbe normalmente anche in questo caso è il flusso di input standard ma potrebbe essere anche un file stream qui pippo un file bene quando il flusso di input è chiuso se è il flusso di input perché l'utente ha battuto ctrl d se è un flusso file perché il file è finito cioè sono arrivato già la precedente istruzione uguale a questa aveva preso oppure file vuoto per esempio cioè non c'è niente dentro ma con carattere allora questa espressione qui restituisce false e se invece non restituisce false restituisce cin cin è un indirizzo della ram quindi un numero su 32 bit viene convertito il tipo da puntatore cioè indirizzo della ram a intero anzi a booleano prima intero e poi booleano fa così il compilatore viene preso come vero e quindi viene eseguita la parte vera cioè ripilogo se il flusso è aperto e questa se il flusso è aperto e punto quella supponiamo che sia una variabile carattere l'istruzione restituisce vero l'espressione cin estrattore x restituisce vero restituisce false solo quando il flusso da cui sta prelevando in dati in questo caso cin è chiuso quindi questa è una tecnica che si può utilizzare per leggere all'interno di un while all'interno di un if c'è poco senso ma all'interno di un while può essere utilizzata questa questa tecnica per andare a leggere un file fino a quando non è finito perché andrà avanti fin quando il file non è finito quando è finito questa restituisce false come stiamo per vedere vediamo fra poco si esce dal ciclo e quindi il ciclo termina va bene quindi questa va bene questa è una roba che non c'ha senso ve lo dico io non ha senso definire una variabile dentro la condizione e dargli un valore dentro la condizione dell'if però si può fare il compilatore la passa della serie in ci si può fare tutto anche le cose che non hanno senso si trovano anche errori di questo tipo quando si correggono i compiti quello che non si può fare però è riferirsi alla variabile y fuori dall'if perché questo sarà importante per il for quando faremo il for perché lo scope non è corretto perché essendo questa variabile y definita dentro la x è la x è dentro l'if chiedo scusa è l'if il blocco in cui quella variabile è definita anche se non si vedono le parentesi graffe in pratica quando si incontra questo punto e virgola anzi quando si incontra questo punto e virgola no quando si incontra questo punto e virgola la visibilità di questa y sarebbe finita adesso qui è solo fastidioso questo concetto che vi ho dato perché non si capisce il senso di questo codice sarà chiarissimo quando faremo il for e manca la terza la terza istruzione condizionale dobbiamo adesso introdurre lo switch e per introdurla facciamo questo esempio che cos'è è un esempio di codice con degli if annidati per esempio sto facendo un programma per convertire una valutazione di una prova d'esame da numerico a a qualitativo e quindi c'avevo una gradazione su dieci valori nella nella valutazione numerica devo passare a una a una gradazione su quattro livelli di chissà perché non ci ho messo insufficiente ma insomma su quattro livelli di 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 della prova allora il programmatore che sta facendo questo programma di conversione dice ok se il voto è minore di 6 allora la valutazione valutazione è una variabile di tipo stringa ne parliamo espressamente più in là che contiene cioè una sequenza di caratteri un vettore di caratteri prenderà il valore sufficiente altrimenti se il voto è minore di 7 la valutazione sarà buona altrimenti se il voto è minore di 8 la valutazione sarà distinto altrimenti la valutazione sarà ottima in pratica cosa ha fatto? ha fatto un mapping di conversione che se, come vedete, il voto è compreso fra 6 e 7 la valutazione è sufficiente anzi, se è minore di 6, chiedo scusa quindi si dà per scontato sarà maggiore di 5 la valutazione è sufficiente se è compreso fra 6 e 7 la valutazione sarà buona se è compreso fra 7 ed 8 la valutazione sarà distinto se supera l'8 la valutazione sarà ottima questo codice è corretto? si può fare? allora, il compilatore lo compila non c'è problema perché in pratica cosa succede? succede che nel ramo else l'istruzione che c'è è a sua volta un if in questo if nel ramo else ci sono due rami anche lì quello il then e l'else nel ramo else c'è a sua volta un altro if nel cui else poi si chiude l'innestamento perché non ci sarà un altro if ma ci sarà una semplice operazione di assegnamento il compilatore gli va bene perché l'if è un'istruzione quindi può stare o in un ramo o nell'altro di un if di un if else quello che viene l'interpretazione corretta di questo codice è scontata perché ogni if in questo esempio ma è solo un esempio ha il suo else c'è il primo if voto minore di 6 che c'è il suo else il secondo if voto minore di 7 c'è il suo else e il terzo if voto minore di 8 c'è il suo else allora siccome ogni if c'è il suo else non c'è nessuna ambiguità su come interpretare l'else ma facciamo un altro esempio questo che ho riportato qui sempre su questa slide supponiamo che stiamo valutando un programma che serve per valutare la gravità di certi reati a seconda se un comportamento è effettivamente un reato o no e a seconda dell'età di chi ha commesso una certa azione se io scrivo un codice età supponiamo che è una variabile tipo unsigned età maggiore di 18 se l'età è maggiore di 18 di una certa persona andiamo a vedere se ha commesso un reato o no se ha commesso un reato cioè se il reato booleano è vero allora la variabile booleana punibile gli diamo il valore truè altrimenti alla variabile punibile gli diamo il valore false in questo esempio stiamo supponendo che per l'età il soggetto sia effettivamente punibile a seconda se ha commesso un orgato dopo di che scriviamo se ha commesso un reato allora è punibile altrimenti non è punibile ma l'altrimenti è riferito a cosa? a se ha commesso un reato o a se è maggiorenne? tante volte anche noi nel linguaggio comune mettiamo due se se una cosa se un'altra non ho ancora se una cosa se un'altra altrimenti e dopo l'ascoltatore dice scusa altrimenti chi? cioè è riferito all'ultimo se che mi hai detto o al primo se da cui è ripartito? perché il primo se da cui è ripartito non mi avevi detto l'altrimenti questo altrimenti è un altrimenti del secondo if del secondo se o del primo allora nell'informatica è sempre vero questo che quando che c'è un if l'else è sempre riferito all'if a lui più vicino quindi questo else qui ho segnato in verde per riferire per chiarire il fatto che si riferisce all'if reato quindi va interpretato il codice in questa maniera dato che è maggiorenne punto se ha commesso un reato è punibile se non lo ha commesso non è punibile questo non va interpretato come se è maggiorenne e ha commesso un reato è punibile e se non è maggiorenne non è punibile se è maggiorenne e questo se non ha else andiamo a vedere se ha commesso un reato o no se ha commesso un reato è punibile se no non è punibile il concetto se non è maggiorenne in questa riga di codice non esiste non è gestito il caso che non è maggiorenne se mi interessa se mi interessa considerare l'alternativa all'if a un if devo mettere l'if innestato tutto quanto fra prendersi graffe cioè se io dico scrivo l'età maggiore di 18 e se è commesso un reato è punibile altrimenti è minorenne questo altrimenti è chiaramente riferito al primo if cioè se non ha più di 18 anni allora io ho bisogno che il primo if lo inserisca lo incapsuli dentro una coppia di parentesi graffe mi è necessario da far capire che dopo questo punto in virgola l'istruzione che corrisponde all'if all'if then è conclusa e quindi questo else si riferisce all'if esterno e non all'if più vicino questo è un problema che spesso accade quindi stiamo attenti con gli if innestati poi ci avevo in sospeso una domanda una domanda relativa alla differenza fra il l'operatore ternario l'operatore ternario è l'if e quindi cerchiamo di spiegare innanzitutto questa è un'istruzione anzi non innanzitutto la differenza sta solo in questo che quella che stiamo vedendo adesso è un'istruzione invece l'operatore ternario serve solo a scrivere un'espressione se io per esempio scrivo prendiamo l'esempio da qui potrei pensare di implementare questa in questa maniera età maggiore di 18 punto interrogativo poi metto punibile diventa true altrimenti punibile diventa false allora per il fatto che io qui dentro ho usato l'istruzione di assegnamento questa qui sembra una istruzione effettivamente perché ho usato l'operatore di assegnamento ma non c'è il punto e virgola il compilatore se metto adesso un punto e virgola questa qui sarebbe un'espressione quindi non è un'istruzione come tale non 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 la posso utilizzare certo che se metto qui il punto e virgola il compilatore dice allora lui voleva fare un'istruzione e quindi la interpreta effettivamente come un if ma se no l'operatore ternario condizionale ti consente anche di fare cose più se volete semplici ma e cioè semplicemente io potevo fare così punibile diventa c'è una variabile booleana punibile gli devo dare un valore se età maggiore di 18 true altrimenti false punte virgola questo è l'uso corretto dell'operatore ternario perché c'è un assegnamento su una variabile io devo assegnare un valore devo sapere se è punibile o non punibile ma è diverso da quello lì perché non ci ha messo il reato però qua sto supponendo che il reato l'ha commesso per cui se ha più di 18 anni è punibile se no no allora io faccio così punibile prende come valore un valore che non so qual è dipende dal valore dell'età se l'età è maggiore di 18 allora il valore che sarà messo dentro puribile sarà true altrimenti sarà false questo è l'uso corretto dell'operatore ternario dell'operatore condizionale che somiglia molto all'if perché io lo potrei usare in questa maniera però diventa un if solo se l'espressione è un'istruzione di assegnamento quando incontra il punto e virgola perché restituirebbe questa espressione incontra il punto e virgola diventa un'istruzione quella espressione non so se ho risposto ma eventualmente ne possiamo possiamo parlare dopo con le istruzioni if annidate si va a mettersi in un ginepraio di guai perché questi else cominciano a sfuggire facciamo un esempio si vede qualcuno mi chiedeva come fare una calcolatrice che avete fatto a lezione prima di Pasqua decidendo prima che operazione fare quello che stiamo vedendo qui è un pezzo di codice che fa proprio questo è una mini calcolatrice che fa le quattro operazioni aritmetiche fondamentali su due operandi op1 op2 di tipo double e l'operatore è definito come un carattere in pratica questo codice legge dall'input alla riga 8 legge dall'input l'operando l'operatore e l'operando poi va a vedere se l'operando l'operatore è il più e in tal caso scrive sullo schermo il risultato della somma dei due operandi se l'operando l'operatore eletto è il meno scriverà la sottrazione e così anche per la divisione e per la moltiplicazione se l'operando è un operando diverso da errore non abbiamo il resto perché se l'operatore è diverso da errore non abbiamo il resto perché i due operandi sono double è chiaro cosa fa questo codice? sarà chiaro però qui abbiamo praticamente una serie di if che sono tutti innestati sulla parte dell'else e quindi c'è una certa confusione si potrebbe generare perché il codice se non non fossero tutti con l'else potrebbe essere ambigo un else se per esempio quest'else non ci fosse sarebbe difficile capire quest'else a quale if si riferisce qui va tutto bene perché ogni if ha il suo else come prima ma non è facilissimo da leggere comunque lo compiliamo lo lanciamo lui si aspetta che io scrivo operando cioè operando non so 34 poi devo scrivere l'operatore e poi un altro operando e lui mi fa l'operazione che ho specificato scrivendo l'operatore al secondo argomento un altro modo un po' migliore per fare questo è l'uso dello switch che cos'è lo switch lo switch è la terza ed ultima istruzione composta che il C mette a disposizione per chi avesse fatto il Pascal sarebbe istruzione case che serve quando i casi da discriminare sono più di due l'if arriva a discriminare due casi condizione vera condizione falsa quando i casi sono più di due o facciamo degli if innestati si può fare perché si può innestare un numero indefinito di if ma il codice diventa un po' complicato oppure usiamo questa istruzione qui che rimpiazza gli if innestati rende semplicemente un programma con degli if innestati più leggibile come funziona la parola chiave è switch che come l'if avrà un'espressione come condizione ma mentre l'if chiede che la condizione sia booleana vero o falso lo switch ammette come tipo della condizione una espressione che può restituire più valori più di due in questo caso per esempio nel caso in esempio prende come condizione un char op è stato definito di tipo char e quindi char può assumere uno su 256 valori non solo due booleano vero o falso ma può assumere 0 1 2 3 fino a 255 a questo punto lo switch fa il codice che è compreso nel suo blocco che sarebbe il corpo dello switch e segue il codice in questa maniera va a valutare quanto vale l'espressione che è il suo test come l'if però in questo caso essa restituirà un valore compreso come ho detto fra 0 e 255 a questo punto parte questa serie di istruzioni che vedete qui riga per riga messe riga per riga che è il caso che l'espressione condizione dello switch mi ha restituito il codice corrispondente all'asci più qui c'è apice apice quindi stiamo identificando un codice asci e dentro ci abbiamo messo il carattere di cui vogliamo prendere il valore del codice asci quindi in pratica stiamo dicendo che per caso quella variabile di un byte c'ha dentro il codice asci del più perché se è così scrivi il risultato dell'espressione op1 più op2 dove questo più attenzione non è un asci ma è l'operatore aritmetico di somma vedo un po' di ciglia aggrottate ma non capisco perché intanto si vede che questo codice è molto più bello di quello precedente fa la stessa cosa anzi viene implementato ve lo posso dire a livello assembly nella stessa maniera semplicemente non c'è un predubbio che questo sia più leggibile una cosa da fastidio questo break qui perché non si capisce cosa ci stia a fare però ci deve stare allora come tutte le cose che sono noiose ma ci debbano stare in realtà probabilmente in qualche senso ce l'hanno perché se no non l'avrebbero richiesto per forza di scrivercelo allora questo funziona così se per caso c'è il più dentro op viene eseguita questa istruzione supponiamo che non ci sia e che come ho fatto io l'utente abbia battuto per l'asterisco allora questo fallisce per cui questa istruzione non viene eseguita si passa a quella successiva fallisce il test della condizione non viene eseguita neanche quella successiva si va alla terza riga questa succede che ha successo perché dentro la variabile op c'è proprio l'asterisco il codice asci dell'asterisco allora questa istruzione viene eseguita quella che è successo poco fa con l'if e poi andiamo a capo e poi c'è questo break questo break serve per saltare a questa parentesi graffa qui serve per impedire che venga eseguita anche l'istruzione successiva con il case se nessuna delle istruzioni precedenti ha avuto successo il test del case se c'è questa ultima istruzione che ha come case default viene eseguita questa istruzione istruzione corrispondente altrimenti si esce dallo switch e non viene eseguito proprio niente quindi il default che è opzionale viene utilizzato come istruzione catch all cioè prende tutto ciò che non è definito prima come valore ma è opzionale per vedere anche qui compiliamo compila e seguiamo facciamo facciamo la divisione 34 diviso 5 6.8 facciamo il default 45 adesso dovrei mettere l'operando che è uno di quei 4 ci metto una cosa diversa ci metto R errore errore perché è partita l'ultima riga dello switch quella che gestiva il caso che ho detto prima catch all default se non è nessuno dei 4 precedenti parte quella istruzione lì l'abbiamo visto in pratica cerchiamo adesso di riguardare tutto in teoria questa è la sintassi dell'istruzione switch serve lo ripeto per rimpiazzare gli if annidati se avete più di 3 if lasciate perdere fate uno switch no 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 se dividi per zero è errore se parte le istruzioni di divisione per zero da errore basta devi fare in maniera tale che quella non venga fatta per esempio come abbiamo visto l'altra settimana allora parliamo dello switch stiamo parlando dello switch la condizione qui si chiama selettore perché non è vero falso ma può avere più valori e dovete scrivere switch poi il selettore fra parentesi tonde il selettore deve residire un valore costante quindi non può essere un float perché il float va per approssimazione e quindi non non è il caso e infatti negli ultimi compilatori mi sembra che te lo bocci no mettere un selettore di tipo swatch di tipo float scusa switch può essere solo di tipo int char o non c'è senso che sia booleano perché altrimenti metteremo un if potrebbe essere un enum come vedremo fra poco a seconda del valore che nel momento in cui viene valutato lo switch assume l'espressione selettore se l'espressione selettore restituisce il valore etichetta 1 parte l'istruzione 1 e per il fatto che c'è il break dopo aver fatto l'istruzione 1 si esce fuori dallo switch se il selettore ha il valore etichetta 2 viene saltato etichetta 1 se vai etichetta 2 viene eseguita istruzione 2 e poi c'è il break e così via un altro esempio è relativo a un gioco che ormai è scomparso il totocalcio per cui lo saltiamo questo sarebbe il diagramma di flusso dello switch si valuta l'espressione selezione a seconda del valore restituto da quell'espressione si effettua un'istruzione poi il break e il break provoca la fuoriuscita dallo switch qui abbiamo un altro esempio di switch è un pezzo di codice che sta servendo al al programmatore per settare il valore di una variabile giorni questa variabile giorni dovrebbe essere settata al valore al numero dei giorni di un certo mese a seconda di che mese di che mese è allora supponiamo di avere una variabile mese di tipo integer o unsigned non c'è senso perché i mesi sono solo 12 meglio sarebbe utilizzare un enum ma qui il programmatore ha detto va bene non me ne importa niente uso un unsigned allora si va a vedere il valore della variabile mese se mese c'ha il valore 1 si intende che il mese in questione è gennaio allora settiamo la variabile giorni a 31 perché 30 giorni a novembre con apri giugno e settembre di 28 ce n'è uno tutti gli altri ne hanno 31 quindi gennaio c'ha 31 giorni e quindi i giorni viene settato a 31 break se il mese è febbraio cioè 2 bisogna andare a fare un sotto controllo se l'anno è bisestile o no se il mese è tre i giorni saranno 31 e così via ho i puntini commesso lì sarebbero gli altri casi c'ha senso fa così sì ma si può migliorare come in due modi un modo è usare il default perché la maggior parte dei mesi dell'anno c'hanno 31 giorni e allora i casi che corrispondono ai mesi di 31 giorni non li esplicitiamo facciamo solo il caso di febbraio di aprile di giugno di settembre di novembre non c'è l'or solo con le espressioni booleane no grazie la domanda è preziosissima e poi anche la seconda l'espressione il case può avere qui un'etichetta e non un'espressione quindi se c'è un'or sarebbe un'espressione invece di avere un'etichetta c'è quattro oppure e per il momento solo quattro oppure aprile ma per il caso di aprile vediamo fra un attimo quindi non ci posso mettere l'or però è possibile avere diciamo più casi che danno lo stesso gruppo di istruzioni che vanno a sé di allora se più casi hanno le stesse istruzioni tu le devi esplicemente scrivere che hanno la stessa istruzione va riscritta la stessa istruzione no qui nella valutazione del case no assolutamente no ah virgola virgola no 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 in C non credo per esempio qui col default ho gestito il caso che abbiamo 31 giorni però giorni 30 sono stato costretto a esplicitarlo non potevo mettere qui 4,6 virgola 9 virgola 11 ma mi sta a far venire un dubbio perché in Pascal si poteva fare eh in qualche modo si fa in quale linguaggio no non è in qualche modo se metti la virgola la metti se no non la metti di chi stiamo parlando che metti la virgola non lo so il case vuole qui una costante o forse un insieme di costanti però in questo momento non mi ricordo sinceramente ok forse si può fare anche come dici te però io non l'ho mai visto e questo è il modo canonico di fare lui stava dicendo che si può mettere case 4 2 punti case 6 2 punti case 9 2 punti case 11 2 punti e poi mettere la sola istruzione giorni e veramente non mi ricordo perché poi il linguaggio si è evoluto negli anni bisogna vedere si fa la prova e si controlla subito comunque anche questo qui è migliorabile perché è migliorabile perché questo numero qui 9 è poco significativo meglio sarebbe stato lavorare in questa maniera per esempio se io ho a che fare con i giorni della settimana i giorni della settimana sono 7 c'è senso che definisco di nuovo il giorno della settimana come un intero o un unsigned no come nel caso dei mesi prima conviene e vi lascio definire ecco a cosa servono le variabili di tipo e numerativo eccoci qua qui è la morte loro proprio la morte delle num è nello switch voi definite un tipo che o gli date un nome o come ho fatto in questo esempio non glielo date costituito da costanti che le definite voi e che rappresentino in maniera chiara al programmatore il valore di quella costante in questo caso se parliamo di una variabile giorno che deve spaziare sui giorni della settimana da lunedì a domenica possiamo fare un tipo numerativo costituito dalle costanti lunedì martedì mercoledì g ve sa do con ovvio significato a questo punto la variabile giorno può assumere o il valore lu o il valore ma o il valore me e così via quando dopo questo concetto lo uso dentro uno switch anche un programmatore che non fosse quello che ha scritto il programma capirebbe immediatamente cosa sta facendo questo programma cosa sta facendo sta settando il valore di una variabile ore di lezione alle ore di lezione del giorno di quel giorno della settimana se lunedì non c'è lezione se martedì ci sono tre ore di lezione e così via e per concludere la lezione di oggi questo esempio mi offre l'opportunità di specificare a cosa serve il break semplicemente togliendolo vediamo cosa succede se io lo tolgo cosa succede se io lo tolgo questo è un codice che somiglia molto a quello di prima e ci salutiamo con questo codice dove però gli assomiglia la più grossa differenza è che non c'è il break poi un'altra differenza è che quella variabile non è più ore di lezione ma l'ho chiamata ore settimanali sottinteso di lezione rimaste questo è un pezzo di codice che serve a uno studente che non vede l'ora che finisce la settimana e quindi è in ansia e vuole sapere quante ore della settimana di lezione sono rimaste perché non vede l'ora che finisce la settimana inizializza ore della settimana a zero e poi fa partire questo switch questo switch va a esaminare che giorno è oggi per esempio oggi è martedì salta se giorno è ma salta il caso l'u e va al caso ma a questo punto ore settimanali rimaste diventa quello che era prima più tre e quindi passa a tre se ci fosse il break uscirebbe dallo switch e rimarrebbe settato a tre ma per il fatto che ho tolto il break fa partire anche il caso mercoledì poi fa partire anche il caso giovedì e poi anche questo e poi anche questo e poi anche questo e poi esce cioè entra in un certo punto dopodiché fa tutto quel che segue fino alla parentesi graffa le fa tutte le istruzioni rimanenti e che con questo strano modo di fare e ci calcoliamo il numero di ore di lezioni rimaste durante la settimana non so l'importante ovviamente era capire la differenza fra con break e senza break con break da dove sei entrato esegui e poi esce dallo switch senza il break da dove sei entrato esegui e poi esegui anche quelle successive no questo è uguale questo è più uguale prende il valore di prima più quindi è un accumulatore la domanda era non era chiaro che questo è l'operatore è l'operatore composto prima diventa tre poi diventa cinque dieci undici 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 ed esce con undici perché questo è il più uguale ore settimanali rimaste più zero quindi qui era undici aggiunge zero bene ci vediamo dopo domani grazie grazie grazie